Ciao a tutti e benvenuti su Tech Gaming. In questo video voglio parlarvi di questa fantastica tastiera da gaming economica. Quindi ci troviamo di fronte a un prodotto molto accessibile in termini di costi. Dovrebbe aggirarsi sui 30 euro, 25 al massimo. E' una tastiera da gaming di Perix. Perix è un'azienda che produce mouse, tastiere ed altre periferiche di buona qualità ad un prezzo accessibile, un prezzo onesto. Quindi se siete alla ricerca di un mouse, una tastiera da gaming, non volete o potete spendere una cifra esorbitante, allora vi consiglio di puntare su Perix. Questa tastiera è particolare perché, come vedete, non solo è presente un pulsante che permette di cambiare la luminosità della tastiera, quindi potete passare da blu a rosso a viola e effetto discoteca, ma avete la possibilità anche di regolare l'intensità del sistema di illuminazione RGB. I tasti sono molto morbidi alla pressione, ma non aspettatevi una tastiera meccanica professionale. Quindi diciamo, quando premerete i tasti, vi accorgerete di trovarvi di fronte a una tastiera molto silenziosa, comoda da utilizzare, ma molto distante da una tastiera meccanica. Personalmente io provengo da altre tastiere meccaniche e quando ho testato questa tastiera non mi sono trovato molto bene proprio perché ero abituato ad altre tipologie di tastiere. Ma se voi provenite da una tastiera con tasti morbidi alla pressione, silenziosi, io vi consiglio di fare questo acquisto se naturalmente non siete alla ricerca di un prodotto esigente. Anche perché si tratta comunque di una tastiera da gaming diciamo economica, ecco, quindi non aspettatevi di fare chissà che cosa con questa tastiera. Ma comunque fate la vostra bella figura spendendo allo stesso tempo poco poco diciamo rispetto alle tastiere professionali. La tastiera come vedete si accende ed è regolabile tramite questa manopola, tramite questo pulsante, presenta i classici tasti per regolare il volume e svolgere altre operazioni. Sono presenti i led in alto che mostrano il num lock, il cap lock e così via dicendo ed è utilizzabile con il cavo USB, quindi non è una tastiera wireless o bluetooth. La cosa che non mi è piaciuta risiede nel poggiapolsi, che come vedete naturalmente è scollegato dalla tastiera, come molte altre tastiere del resto presenti sul mercato. Però la differenza è, giustamente è una tastiera economica quindi non bisogna aspettarsi chissà che cosa. Però risiede nel fatto rispetto ad altre tastiere che, a parte il fatto che non è diciamo magnetica, ma non presenta un sistema solido in modo che resta sempre agganciato la tastiera. Ma un sistema di questo tipo, voi fate una lieve pressione per agganciare il poggiapolsi. Al momento in cui però spostate la tastiera in avanti o indietro, come vedete, praticamente viene via. Il poggiapolsi, diciamo, è munito di un sistema, io direi, abbastanza discutibile. Come vedete ci sono quattro supporti che vanno praticamente infilati qui dentro. Quindi è un sistema, direi, abbastanza scomodo. Se naturalmente voi, una volta che agganciate, diciamo, il supporto, non spostate la tastiera, il problema non si pone. Però al momento in cui spostate la tastiera, viene via. Diciamo, questa è una cosa che mi ha dato leggermente fastidio. Per il resto si tratta però di un'ottima tastiera da gaming economica. Ci tengo a precisare economica, non professionale assolutamente, non programmabile, non ha funzionalità particolari. Ma, diciamo, ha un design tamarro, come si suol dire. La possibilità di cambiare i led, quindi, diciamo, fa la sua figura. Quindi se avete un pc non eccesso, quindi non un bel pc da gaming, e volete magari, come si dice, volete entrare nell'ottica del gaming, volete stupire gli amici, spendendo poco, magari volete fare anche un regalo per Natale molto economico, allora questa tastiera potrebbe sicuramente fare al caso vostro. Non è paragonabile a tastiere meccaniche o da gaming professionali, questo no. Ma, comunque, risulta un valido prodotto sia per lavorare, sia per giochicchiare.